Benvenuti ad una nuova puntata del Late Show con Karim Musa E la vostra vacanza? Abbiamo fatto un viaggetto nei paesi Amsterdam Amsterdam è bella da Dio E avete... I stoni, i leptoni Droga, put***a Ehi! Buongiorno a tutti! Buenos dias! Sacca posta Stavo parlando con lo spirito super abbronzato e rilassato che c'è al canto Oggi mi scompano i rockpiggini Come stai? E questo che cos'è? Ho salvato un pinguino! Oh oh Un monino! Oh Si chiama Ovuvuvuvuvu e niente ue vua uubemubem o sas Ha una gran puzza di cazzo Di capra Oh Capra, capra, capra Scusate, silenzio Silenzio Vi lascio ragazzi si sviscerate Katy Perry Perry Doppio Perry! Adesso Mi spieghi, ho bisogno di scoparti un attimo per Appena scoperto quanto è divertente scoperemo un pinguino Da impazzire Oh Oh Non preoccuparti di riunirò la gang e useremo youtube e periscope, snap, tube, utscope, pizza, tube, pastore per i sali Faremo tutto quello che dice il pequeno Come diceva sempre mia madre Hai rovinato il mio maschis E adesso sesso Ricordatevi tutti che non esisto Non mi sembra più Jojo Sembri proprio una mignota Comunque ho altre menti sexy Per cui sostituiremo l'orso che racconta barzellette Con un ragazzo di youtube Che gioca ai videogame con la bocca Ma chi ho so far i versi con la bocca? Guarda Nessuno vuole darmi 4 Te lo do io, Grover Deniz Questo è un ospedale E ragazze Che bello il melone Sta tranquillo amico Mi prenderò io cura di te E' appena arrivata la radiografia Non ha una banale infezione E' terminale Un ospedale Grazie